Ciao a tutti, oggi parliamo di Stybex Lemo, la sedia dal design moderno utilizzabile dalla nascita fino ai 99 anni. Per i primi 6 mesi di vita del tuo piccolo potrai utilizzare Lemo Bouncer, una sdraietta che supporta fino ai 9 kg di peso e può essere montata sia a terra grazie al suo supporto, sia sulla struttura della sedia Lemo. Lemo Bouncer, dondola da sola, ha una seduta in mesh ultra traspirante ed è completata da uno splendido supporto neonato. Dai 6 mesi ai 3 anni circa del bambino potrai utilizzare Lemo Bouncer come un comodissimo figgione per la pappa, aggiungendo due comodi pezzi alla struttura, il babysat e il bassoio. Vediamo insieme come smontano. Infine ecco Stybex Lemo in modalità sedia. Sarà possibile regolare la profondità di sedia, l'altezza del coggia gambe e inoltre sarà possibile spostare la sedia a piacimento grazie a delle comode rodelline posteriori. Stybex Lemo, molto più di una sedia.